Da sottoterra che ti ha fatto staccare il biglietto per l'Ariston a cause perse con cui sei in gara, Sanremo 2023. Com'è questo percorso, questo itinerario, come hai vissuto in queste ultime settimane dalla finale all'inizio? Guarda, settimane belle stressanti, dure però dai, comunque mi hanno fatto crescere molto in generale, sia dal punto di vista proprio, diciamo, tecnico, perché poi sai devi provare tanto, mi hanno messo in riga, e comunque anche dal punto di vista di proprio esperienza, diciamo che è proprio un percorso che mi ha dato tanto, già adesso, quindi capiamo poi, cioè sono veramente curioso, sai proprio del palco dell'Ariston, di come sarà quella settimana, che dicono tutti che è infernale, e niente, quindi sono contento. Senti, il festival, o meglio, la partecipazione al festival, quando e comenta nel tuo, nei tuoi orizzonti artistici, e che peso specifico ha in questo momento? Allora, diciamo che è una cosa che, io ho fatto un po' tante cose, no? Cioè ho fatto punk, rap, sono passato da tante, tra tante bandiere, però tipo, ho sempre avuto un po' questa cosa del festival, nel senso che a me il pop piace da sempre, no? Tutto il mondo così, e quindi l'ho sempre, diciamo, un po' vista, negli ultimi anni in particolare, no? Quando poi è arrivata, sai, la cosa di dire proviamoci dai a fare Sanremo Giovani, e ho detto semplicemente facciamolo, e quindi, niente, adesso me la sto vivendo così, sono, diciamo, contento di essere qua, ansiato, giusto, tranquillo, comunque, nel senso che sono con mio fratello, sul palco, quindi, alla fine, è semplicemente, siamo noi lì, e cerchiamo di spaccare. Infatti non sarai da solo. Esatto. E questa, in qualche modo, di fatto le due cause perse si materializzano sul palco, sì, esatto. Ecco, che valore ha questa condivisione? Cioè non poteva essere altrimenti, in qualche modo? Sì, esatto, nel senso che, sai quando ti fai i viaggi da solo, no? Che io tante volte mi sono immaginato io e mio fratello, no? Sul palco, a Sanremo, diciamo, in una situazione così, ma chi sa come sarebbe, no? Sicuramente, diciamo, mi sono sempre immaginato con lui e, come ho detto prima, è una cosa fighissima che, poi, è una soddisfazione anche un po' personale perché, poi, andiamo lì con veramente un pezzo scritto solo da me e lui e, quindi, proprio dal, sai, dalla nostra cameretta all'Aristo. Quindi, sì, siamo le due cause perse sul palco, alla fine. Che tipo di, che senso di riscatto ha anche questo salire sotto il palco? Beh, un riscatto, cioè, alla fine personale, ma nel senso che io sono un ragazzo, cioè, ho avuto un po' di problemi, nel senso, ma perché, personali, no? Sai, ho pensato molto nella mia vita, forse anche troppo e, per me, un riscatto personale, nel senso che anche le volte che, comunque, e poi ne parlo anche nel pezzo, no? Quando, anche quando pensi, comunque, che un po' ogni tuo sforzo di essere, sai, felice, contento, sia vano, in tutto questo, comunque, ho sempre avuto il mio fratello e abbiamo sempre avuto la musica, no? Con noi, l'abbiamo portata avanti, finché, alla fine, dai, qualcosa non si è mosso, un pochino e noi siamo arrivati a questo piccolo, però anche grande, comunque, risultato, nel senso che, comunque, nella nostra vita sarà una cosa che ricorderemo sempre, capito? E quindi, niente, un po' il riscatto personale, un po' nei confronti proprio di me stesso. Quando abbiamo ascoltato il brano, la sensazione è effettivamente che tu urli, in qualche modo, in tuo bisogno, quindi c'è l'eruenza, c'è un'urgenza, c'è una forma di rabbia, ti chiedo, questa attitudine, quanto fa parte di te musicalmente, artisticamente, ma anche, forse, un po' generazionalmente? Certo. Io penso che, alla fine, nel senso, la rabbia sia un modo per, è un modo, diciamo, neanche, non ha una persona accezione negativa, no? Cioè, nel senso, è un modo di tirar fuori le cose in modo diretto dallo stomaco, no? Certe cose, secondo me, non vanno dette... Cioè, oddio, è sempre una canzone, quindi ti fai i tuoi viaggi, ai tuoi filtri, no? Però vanno dette, diciamo, ecco, nel modo più sincero, no? Come ti viene per me. Su questo pezzo era una cosa che mi è venuta proprio spontanea cantare in questo modo, no? C'è, quindi, un po' urlando. Penso che, appunto, alcuni della mia generazione, no? Se poi, appunto, la rabbia fa parte anche di un reprimersi, a volte, no? Non riesci così tanto a esprimere una parte di te che, alla fine, poi, quando la esprimi, è qualcosa di forte, no? D'impatto. E penso che tanti, appunto, della mia generazione se la vivano così, no? Questo reprimersi continuo che poi, a una certa... deve esplodere, capito? E niente, voglio farlo cercare di un po', nei miei limiti, di farlo un po' sul palco dell'Ariston, dai. In forma di istinto. Sì, istinto, bravo, hai detto proprio la cosa giusta. Cioè, su questo pezzo sarò istintivo. Allora, inizi dicendo, non puoi farmi sempre le stesse tre domande. Sì. Ma queste tre domande ci sono, cioè tu in mente quali siano e un modo di dire? È un modo di dire per... sai, quando tu hai qualcuno che ti fa sempre le solite domande e tu non cambi mai, no? Dici sempre, ok, queste domande me le hai fatte un anno fa, tre anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa e siamo sempre allo solito punto. Io sono questo, non cambio, perché, appunto, ho già capito cos'è che mi fa stare bene, no? Nella vita. E voglio proseguire per quella strada. Poi dici, parli di sogni troppo grandi per le proprietà. Sì. Quanto, in qualche modo, difendere e resistere a stare attaccato a quei sogni aiuta poi a zittire anche la guerra che c'è fuori? Certo, è tutto secondo me, cioè nel senso, diciamo, in questo mondo che a volte appunto ti mette sia in guerra con gli altri ma in guerra anche con te stesso, secondo me dare spazio a ciò che ti fa stare bene, in questo caso i sogni che siano piccoli, troppo grandi, come dico io, è tutto, nel senso, non è neanche un rifugiarsi, capito, in qualcosa che dico di oniri, come mettiamola così, no? Ma è proprio, cioè, dare veramente spazio a ciò che ti fa stare bene, un po' in questo caos, cioè che non è semplice gestire. A Sanremo giochi in casa, in sostanza, da Savonese. Attenzione, eh, perché Sanremo, Savonese, no, 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 però dai, da Ligure sì, 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 no, 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 tranquillo. Quanto devi artisticamente alla tua città e quanto invece in qualche modo ti ci sei sentito stretto, perché tu poi sei, ti sei presudita a Milano. Certamente, quantomeno gran parte del bacino, quantomeno nord, o centro Italia, si sente all'ombra discograficamente rispetto a Milano. Certo. Guarda, io penso che alla fine chi viene da realtà piccole lo sa un po', no, è un po' anche un luogo comune, ma è vero. Nel senso che Savonese è una città che, e chi ci vive lo sa, è una città che è comunque chiusa, no, scura, provinciale, quindi diciamo che noiosa soprattutto. Però diciamo che anche questa noia, secondo me stimola un po', no, la creatività. Infatti a Savonese ci sono tantissimi artisti, giovani, diamanti grezzi, veramente proprio è un vivaio incredibile di artisti. Mi sono sempre chiesto perché è una città piccola, però c'è questa esigenza, no, proprio secondo me anche da parte di artisti di un po' fuggire, no, da sta noia provinciale. E quindi sì, mi ha tolto perché certe volte no, mi è venuto da pensare, ah ma se fossi nato qua a Milano dove c'è in ogni palazzo un artista, un grafico, un, c'hai capito? Però d'altra parte sento che mi ha dato nel senso, sai, proprio anche dal punto di vista di determinazione del dire, ok, no, non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare. E quindi sì, mi ha dato e mi ha tolto Savonese, però come ogni realtà un po' piccola, sai, che non è una grande città, secondo me. Tornando su Sanremo, sono appena uscito ufficialmente l'elenco dei cover, quindi... Si può parlare, si parla. Allora, io porto coi Bunker 44, che sono questo collettivo di ragazzi di Empoli, e porto con loro una cover dei Bostell, Charlie Fa Surf, che, vabbè, quest'anno tra l'altro fa 15 anni e quindi ho, diciamo, deciso di puntare, diciamo, su... puntare, di duettare con i Bunker perché, diciamo, che sono una realtà, secondo me, che esprime bene... siccome quello che è il nuovo pop, no, cioè, molto contaminato, libero, come dire, non troppo costruito, no? E mi piaceva molto portare questa realtà sul palco, poi, dell'Ariston, capito? E mi sento molto, capito, simile a loro, infatti, diciamo, anche personalmente c'è chimica fra di noi. E... quando, appunto, io ho pensato prima alla cover, da portare, ho detto, mi piacerebbe portare... diciamo, tra le tante cose, idee che hanno in testa, diciamo, mi piacerebbe portare Charlie Fa Surf perché è un pezzo che inizia comunque con una frase molto forte, cioè... vorrei morire a quest'età, in generale. Trovo che sia un brano che è scritto anni fa, ma in qualche modo è riuscito ad essere ancora attuale, no? Un po' sia per la storia che ha, a cosa è ispirato il brano, no? E... quindi un brano molto d'impatto, è molto energico, renderà bene sul palco con loro perché siamo tantissimi, facciamo casino, sono una situa comunque sicuramente un po' abbastanza particolare lì in mezzo, dai, me la immagino così, rende bene. Quindi sì, sono molto contento. Quindi per il Fantasarremo è una cosa buona. Sì, sì, per il Fantasarremo è una cosa buona giusta. Se si prova a vincere il bonus rave, portiamo altre persone, facciamo un bel casino. Poi, figurati, siamo sul palco, siamo in otto che cantiamo, quindi moltiplicata per otto la possibilità di avere bonus. L'incontro con l'orchestra, come è stato? Bellissimo. Già dalle prove. Bellissimo. E... diciamo che poi quando tu scrivi un brano, sei in cameretta, non lo pensi per un orchestra ovviamente, no? Quindi sentirlo comunque riarrangiato, suonato così, cioè dico... è assurda, è un'esperienza assurda. Poi il maestro Melozzi ha fatto veramente un gran lavoro, perché è stato proprio un lavoro di... non ha stravolto il brano, non ha aggiunto quello che bastava, ma proprio in modo, secondo me, perfetto per includere il pezzo nella dimensione poi dell'orchestra. Quindi, lui è veramente il numero uno, veramente. Ha un bel figlio. Sì, sì, poi era proprio perfetto per questo tipo di pezzo. Sì, rispetto al resto del cast, c'è qualche artista che fa parte dei tuoi ascolti o che magari sei curioso di ascoltare o di conoscere in questo concetto? Beh, curioso di conoscere tutti, perché alla fine sono tutti, volente o nolente, come dire, persone importanti in generale nella scena italiana, no? Però ti posso dire che, non lo so, Lazza, Madame, queste persone qua, queste persone, artisti, li ho ascoltati molto, li ho stimati, li stimo molto, Mara Sattei, però piuttosto anche con una Giorgia, che ovviamente è leggendaria, un Grignani. Cioè, veramente, quest'anno il cast è vario, c'è il passato, il futuro, il presente, è veramente figo, quindi di tutti. Allora, nella settimana Clue esce anche il tuo EP. Sì. Quindi, come è strutturato, raccontaci un po'. Sì, l'EP è, diciamo un po', sono, saranno sei tracce, è un po' la, una fotografia alla fine degli ultimi, l'ultimo anno e mezzo, no, di musica. E, diciamo che ci sono sia tracce molto dritte, tipo quella di Sanremo, oppure, appunto, come causa perso, pure sottoterra. Però ci sono, mi sono ritagliato uno spazio anche un po' più, diciamo, introspettivo, dove rappo, o anche, oppure c'è anche una ballad, proprio più triste, perché, appunto, mi piace vivermi questa cosa dell'essere, sai, Sì, sì, rabbioso, però sono, sono anche un tipo molto introspettivo, tristone, comunque. E, quindi, niente. E, veramente, come dire, un po' una fotografia dell'ultimo anno e mezzo. Dopo Sanremo, cos'è? Guarda, dopo Sanremo, no, la mia testa si ferma a Sanremo adesso, no. Però, in realtà, no, sto pensando molto al dopo, perché ho tanta voglia di fare musica, comunque, di portarla in giro live, soprattutto, anche dopo tanto che non suono. E, questo, comunque, mi voglio richiudere in studio, di nuovo tirare fuori i pezzi e uscire con roba nuova ancora. E, questo. Grazie a tutti.